Oh salve! Oh buongiorno! Che giornata! Non mi vedete? È perché devo accendere. Adesso accendo, guarda. Buongiorno. Avete visto com'era nero? Era un po' buio. Buongiorno amici! Ci sono anche io! We are... Però se non mi fai i cori è tutto... No? Va bene. Se no faccio il coro, c'è il pubblico che lo senti. Allo stadio questo è sempre quando gioca la Juve. Avete visto? A volte ritornano. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ai Ubrid! Verso l'infinito e oltre! Grazie mille! È un episodio crossover. Sì, dopo tanto tempo ho riscaricato PlayerUnknown. Che bello! Gli ho proposto l'1v1 ma non mi sembrava convinto. Quindi mi sa che andremo sulla co-op. Mi sembra un po' uno spreco di mappa l'1v1. E invece è incredibile perché la partita dura una vita e appena uno vede l'altro vince. Ah, giustamente! L'ho fatto con Gianluca ed è stato molto bello. Perché stavamo chiacchierando tra di noi ma stavamo dicendo tutto tranne quello che stavamo trovando. Ed era tutta una tattica per prenderci in giro. Sembrava troppo go-kart mattina. Buongiorno, buongiorno! Come fa ad avere questa tonalità di primo mattino? Sono sveglio dalle sei e mezza. È presto, è effettivamente molto presto. È caduto qualcosa in casa che mi ha svegliato e assolutamente non so cosa. A me è successo ieri sera, sai? Sì, non lo so, ho sentito... Mi alzo e non c'era niente, era tutto a posto. E pensavo fosse Sif, dormiva. Sono andato a mia sorella, mia sorella mi fa pensavo fossi stato tu e niente. E io non so. Credo e spero sia il vicino e non qualcosa... Un fantasma che ha fatto cadere le cose e poi le ha raccolte. Educato, però è un po' strano. Peppone, giornalei verso il 12, grazie mille. E non so se sono fantas... È che noi abbiamo dei vicini e ogni tanto ce ne dimentichiamo. No, era palesemente in casa, se non mi sarebbe mai svegliato. Sì, sì, era molto vicino. Anzi, era proprio nella mia stessa stanza. Magari era un piccione che si schiantava sul tetto. Possibile. Possibile che fosse un piccione atterrato male di ricordo. Bello. Gli sbiridi. Gli sbiridi. Il Natale, quando arriva, arriva. Grazie Lorenzo. Non so se ho soldi nella carta, ma le nuove donazioni mi piacciono troppo. Grazie. Ho messo le cose di Natale, Karim. Buono. Ah, scusami. Non so se ho voglia di farlo. Dai, siamo a dicembre. Siamo a dicembre, devo aprire il calendario dell'avvento. Aspetta. L'ho già aperto a novembre. Eh, ma io c'ho i cioccolatini, sono a primo a novembre e diventavo grasso. Eh, giustamente. E non solo, c'ho anche quello di Lego Star Wars. Aspetta. Come si apre quello di Kinder? Allora, visto che ho due calendari dell'avvento, facciamo che uno lo apro la mattina e uno lo apro la sera. Così siamo tutti più contenti e tutti più felici. Va bene? Va bene. Grazie. Grazie. A posto? Può funzionare questa cosa? Credo di sì. Dai. Non diventi grasso a dicembre? No, no, no. Perché è Natale. Quando arriva, arriva. Hank! Ciao ragazzacci, il messaggio di ieri ci ha angosciato un po' tutti. Eh sì. Eh sì. Volevo dire che ti si vuole bene anche se... E che sei uno streamer fantastico. A proposito di questo vorrei dire una cosa. Su con la vita, dato che sei con Karim in una scala da 100 a 100, quanto vi ha fatto cagare il fumetto? E ancora non glielo ho dato. E io non l'ho letto, quindi non te lo posso dire. E non ci siamo visti. Dov'è l'uno? Ma perché non mettono le cose in ordine qua? Eccolo qua. Eh, ecco. Oh merda. Perché ti conviene mettere una luce nella tua face? Ehi Siri! No, non dietro, davanti. Accendi luce scrivania. Ah, scusami. È blu però. Aspetta. Vedi, cambia colore. Cambia colore. Siamo attrezzati, Karim. La lascia fare. Aspetta. Accessori. Colore. Questo qui. Ok, luminosità. Pac. Bello? Ti ficca? Aspetta. Un tavolo buono che conosco. Oh, guarda che carino. L'hai visto? Grazie. Che carino. Grazie. Eh, se tu ti illumini te e spegni lo sfondo, viene fichissimo. È difficile spegne. Certo. Dovrei tirare giù la fine. Certo. Tirare giù la tapparella e metterti un faretto da investigazione in faccia. Ho trovato un ovetto piccolissimo della Kinders. Ok. Fa un po' di coso. Ok. L'autofuoco c'è. Guardate che bello. Grazie a Maxetto che ha intenzione di aprire una sala LAN. A proposito, dovrei inaugurarne una, ma va bene. Non mi hanno ancora detto niente. Ci vediamo però martedì. a Viale Pasubio dalla Microfrost. Ok? Non c'è Karim. Perché Karim fa lo spettacolo a? Roma. Striccia la notizia. Roma. Roma. Interfacciarsi con gli sponsor lo chiede alla persona più sbagliata. Io cerco di collaborare con Nintendo dandogli della mamma puttana. Quindi, lo so. Anche di quello. Giapponazzi, give me ten. Le ci vuole bene. Grazie mille. Grazie anche a Radex. Buongiorno Gatto. Una delle relazioni più lunghe. Karim Kulo. L'ha scritto. Mi dispiace. Grazie a Gio... Sei contento di essere in live? Sì. Grazie a Giozzo. Salve Gatto. Vado dopo cinque mesi. Mi vuole bene. Un salutone a Karim. Questo invece... Ciao. Uno ieri mi ha scritto per tirarmi su. Aspetta che avvio il gioco intanto. Anche io. Mi ha scritto che sono uno streamer decente. Uno che fa video decenti. E poi forza competi con me. E poi dopo ho detto non ti offendere perché ti dico che sei discreto. Scusa, discreto. Ah, io ancora credo. Perché sei molto meglio della media che, scusa il francesismo, è una merda. Io non ce lo vedo il complimento. Mi dispiace. Cioè, vi dici che sono discreto perché sono meglio della media. Non sei parte della merda. E vabbè, ho capito. La stella merda che lui considera merda. Ma non vuol dire che sono bravo. Vuol dire che non sono una merda. Eh, non so se... Eh, va bene. E per me non fai schifo. Mio Dio. E ci sono rimasto un po'... Non so... Beh... Allora... Dipende cosa intendi tu per complimento. Perché il complimento... Se per lui, per esempio, un complimento è... Non essere una merda. Semplicemente non essere una merda. Per me non essere una merda dovrebbe essere la base, però... Perché non ho l'audio? Player unknown? Non c'è nella lobby se hai tolto la musica. Ah, merda. Proprio così? Sì, sì. Non me lo ricordavo neanche più. Pensa da quanto non gioco. No, io la musica l'ho proprio tolta perché se devo registrare... Molto buono l'ho detto, comunque. Non ti offendere, Karim, ma il gatto è l'unico streamer italiano. Se streamo solo io, quindi. Accetto. Perché io mi chiamo Karim? Non ho capito. Che cazzata ha detto? No, credo che fosse un'esagerazione per dirmi che sono bravo. Ma l'unico streamer italiano vuol dire una determinata cosa specifica? Abbiamo un capitano! Eh, va bene. Penso che... No, penso che l'idea fosse quella, poi non lo so. Almeno non è un insulto. Eh, ho capito. Però lo stesso, è come dire... Non sei una merda. È più che suf. Eh, va bene. Madonna, iracheno addirittura? Va bene. Era quella, vedi? Sì, era quella. Ah, va bene. E voleva... Era un po' strano, però sì. C'è solo uno streamer... È solo male. Per questo ho scritto l'unico. È il pene più lungo dei tuoi amici. Va bene. Non sei bombabile, ma limonabile. Va bene. Possiamo anche chiudere qui questo siparietto. Vi ringrazio tutti per il supporto. Un commento sul raid di ieri sera. Mi è dispiaciuto, però ho riso tanto. Ho riso veramente tanto, perché... Vi ho mandati tutti su... Da una persona Che era un po' AG E evidentemente non sapeva Dell'esistenza dei raid E ha pensato di essere bottato E poi dopo se ne è fregato. Perché in questi giorni Io non ci sono tanto su TeamSpeak Sì E non sistemo le cose Capisci? Vedi, quando non ci sono Succede un casino Ogni volta Abbiamo riso tantissimo Certo, per forza Sulla tristezza delle altre persone Non sei meglio di Hitler E' passato Lo accetto E' passato da 20 persone A 930 Allora Il problema Infatti la prima cosa Che lui ha detto è stato Dimmi quando scendere 3, 2, 1 Ci sono i bot Perché i raid Non vanno fatti così Perché se la gente Anche perché Ragazzi Il raid Poco prima Di avere la funzione Su Twitch Il raid era una cosa negativa Raidare vuol dire Dare a fastidio Didossare le altre persone Quindi Gatto Non dovrebbe dirvi Di dire una cosa specifica Perché altrimenti Vedere 900 persone Che dicono la stessa cosa Ma non ci vanno Se non gli dici di scrivere Ha ragione No, non è vero Scrivete quello che Salutatelo anche solo Cioè Se lo salutate Oppure gli scrivete Ti ha raidato Gatto92 E' molto meglio Che scrivere una parola a casa A caso Ma non devo esserci io Per spiegarti questa cosa Puoi non essere coglione Anche senza di me Per cortesia Guarda che A parte lui Tutti gli altri L'hanno sempre capito A parte lui Perché gli altri Sanno cos'è il raid Ma non puoi darlo per scontato Perché il raid È nato da pochissimo È nato da pochissimo Quel signore aveva 60-70 anni quasi Poverino Non credo No, no Però non si fa Quella non rile La devi fare in modo intelligente Però abbiamo riso E per forza gli riso Poverino Era confuso Era completamente E come trovo Guarda che Come se lui tornasse a casa Aprisse la porta E si trovasse 900 persone Che gli dicono Buccio de culo Buccio de culo E dice Beh a posto Chiamo la polizia Perché è un casino No vabbè Ma è rimasto comunque confuso Anche dopo che gliel'hanno spiegato Questo mi ha fatto ancora più Eh ma lui l'ha lasciato Ormai era persa per sempre Non la legge Ma no È durato poco È durato È durato È durato 5 minuti Ma certo Però comunque È passato da 20 persone A Anche meno di 20 Speriamo che Almeno un 10 Ma guarda Ma sai che solitamente Rimangono Perché Mettono il follo No 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 Sì Rimangono anche a seguire Sì 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 La ragazza Che ora hai dato ultimamente Che tra l'altro È inglese E fa i biscotti Quindi Pensa quanto è diversa da me Però Ha Ha un cane Ha un husky Anche lei E l'ha chiamato Siri Come Cirilla Quasi Cirilla quella di È una cagna Ah ok Oh camicia non mi viene Come si chiama The Witcher E la gente la segue Ah figo La gente la segue Dopo di me Va in live E la gente la segue E non c'entra un cazzo Capisci che una ragazza Che fa i biscotti È meglio di un quarantenne Che gioca Vabbè ma rimane Abbiamo lasciato gente Anche da Io sono Groot Abbiamo lasciato gente I follow Li lasciano sempre Poi dopo si ritornano Tu Tutti i giorni Dovresti andare a vedere Quanta gente c'è E adesso Io E se no non vale Perché secondo me I raid Non funzionano così tanto bene Faremo un Come si chiama Un form Soddisfatti O rimborsati Degli streamer Vediamo Io butto un po' di Semenza Quelli Grazie a Pace E a Redex E a Biraiolo sexy E un Orion E al vento Grazie al vento Bello A me è piaciuto E anche De gaspita 150 fino a mezzanotte No ma dico Costantemente Ci vai una settimana dopo Per vedere se ha raddoppiato Anche solo da 8 a 16 Le persone Ecco una cosa che torno a consigliare Le persone che vengono raidate Mutate I suoni So che a voi piace Lasciare i suoni per i follow Ma Dopo il terzo Di fila La gente vuole uccider Se vi chiude la live E vi toglie anche il follow Almeno quelli sani di mente Perché E' veramente terribile E' veramente terribile Perché Io sono Groot Che c'ha Io sono Groot Ad ogni follow E ce ne saranno stati Un migliaio Quella sera lì E minchia se E la gente E perché sai La gente non si aspetta 900 persone Esatto No no Chiaro Però nel momento in cui lo fai Devi mutare Ma all'istante proprio Perché poi dopo è troppo tardi Ah giustamente Un altro che avrei dato Aveva di Luigi Che era bello Perché era random Ogni volta c'era De Luigi Che diceva Nuovo abbonato Eh caro abbonato Aveva sempre una frase diversa Però durava 6-7 secondi ogni volta E con 100 persone Di base Che ti follow E' la fine De Luigi Caro abbonato Nuovo abbonato E lo spero Perché non devi mutare Altrimenti Di raidarlo E ho detto Boh Io non lo conosco Spero non bestemmi Lo raido L'amico Ha tirato Due moccoli Va bene Va bene Porca miseria Non si può fare niente Purtroppo non puoi neanche pretendere Che non bestemmino i gamer italiani Infatti per quello che non raido quasi mai gli italiani Raido di solito quelli che fanno Che tristezza E che devo fare Bestemmiano Madonna che tristezza Di solito raido Quelli che fanno musica Gli dico Sweet'o Malabama E loro cantano Suonano Sweet'o Malabama Ed è bello Perché almeno E la funziona Perché c'è un Format Infatti E gli mando quello E si che è spavento E tu non l'hai provato Il nuovo server Il test server Di pub No 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 E' questa Però puoi saltare le staccionate Ci sono i suoni nuovi La caudi nuovo E' tutto nuovo Si e comunque Nel raid Siate rispettosi Perché adesso Mi pareva fosse Phil di Ferro Non mi ricordo adesso Che all'anziano di ieri Scusi L'ho chiamata anziano però Dai Ha una bio lunghissima Non so di che anno sia Continuava a scrivergli in caps Ringrazia il gatto maleducato Esatto No Non lo dovete fare Lui non aveva capito E non era solo lui Un sacco di gente Al di là di quello Perché l'amico ha detto Ah hanno fatto raid Per rompere il cazzo Ok Perché non sapeva ovviamente Si E tutti hanno detto Ma come rompere il cazzo Ma guarda questi qui Io me ne vado Ma no ma dove Ma capite la stanza Capite le persone E comunque Uno non è obbligato a ringraziarmi Chiaramente Io ho solo la pistola E te lo dico Ah io ho tutto Ah che cazzo Ho il cecchino E il E come E se trovi un'arma Dammela Ho il fucile a pompa Allora Ingratto ringrazia Non è una cosa che gli dovete iscrivere mai a nessuno Perché comunque Se non ha voglia di ringraziare Magari gli sto sul cazzo Perché Potrebbe capitare che io raido uno A cui sto sui coglioni tantissimo E io cringio duro Che mi dispiace Però non è costretto a ringraziarmi Perché se gli sto sui maroni Non mi ringrazia E fa bene Perché gli sto sui maroni Quindi Non dovete Costringere la gente A ringraziarmi Decide lui Se vuole mi ringrazia Se non vuole no E soprattutto Non lo dovete far notare in chat Perché se uno è sano di mente Capisce Che deve magari O ringraziare Oppure dire qualcosa Quello di ieri sera Poverino non ha capito un cazzo Pensava veramente Di avere un problema Al suo calcolatore Troppo Scusa Non era così tanto vecchio Oddio La reazione Non stava giocando a Zork Stava giocando a Overlord Però mi ha fatto tanto ridere Io sono contento Dopo si è chiarito tutto Sì sì ma sono sicuro Mi chiamo Monk Magari un secondi prima del raid Dillo chiaramente Con qualche piccola mila Ma ho capito Ma scusami Guardate che adesso Devo anche stare attento A queste cose qui Perché siete stronzi E che cappero Non lo fate e basta Siete persone intelligenti Ciao Gabriel Buon Natale Gabriel Siate persone ragionevoli Quando raidate Capite che magari potete dare fastidio Scrivendo certe cose Non le scrivetele Ti vedo Ti vedo sai Alla frontiera Ho paura qua La soluzione Fatti un lavaggio di coscienza Fatti un lavaggio di coscienza E madonna La metto a 100 gradi Bravo Bravo L'avventati che poi c'è la gente di merda che ti segue Dai No vabbè ma ieri sera Ti giuro è stato zitto tutto il tempo Finché non ho fatto partire il raid Era zittissimo Sì 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 E per quello che le ho detto Sai parlare Perché Io allora Prima di Di raidare qualcuno Non lo ascolto per 4-5 minuti Per sentire se bestemmia Per quello Poi dopo lo fa lo stesso E lui era zitto Zitto Come quello lì che Ti ricordi quello che avevamo Di quello che ha detto Non sono il pagliaccio di nessuno Esatto Esatto E allora volevo avere lo stesso tipo di reaction Grazie a Veralfe Eh ma infatti mi dispiace Perché ovviamente Il grande La grande diatriba è O parli da solo E che cazzo Che sfiga E il rosso O parli da solo E quindi Dovresti intrattenere Anche se non c'è nessuno Però giustamente La gente dice Eh ma cosa parlo a fare Se ho due viewers E dovresti intrattenere Anche quei due viewers Eh in teoria sì Ma anche se ne hai zero Dovresti parlare Ma comunque c'è l'altra gente No perché altrimenti La gente Magari Nella tua live Dove hai zero viewers Da te ne sono passati 20 di persone Singolarmente Ma nessuno è rimasto Perché tu non parli Esattamente Bisognerebbe Il concetto Il mio concetto era quello Farlo parlare Eh capito Beh parlare ha parlato Parlare ha parlato Poi non ha capito il cazzo Perché non volete la gente Che bestemmia Perché non me va Perché è maleducazione In realtà In realtà Anche se Dicesse per Tipo Un quarto d'ora Cazzo Eh Sarebbe comunque Nello stesso livello Di fastidio La bestemmia è semplicemente Una maleducazione Terribile Boh Da fastidio Eh merda Catto c'è gente Arrivo Perché magari Vi mando da uno Per Per dargli gente Il bestemmia Mi da fastidio Lo vedo Lo vedo Non lo vedo più È entrato in casa Sì ce n'è uno In una casa L'altro nell'altra Ok Grazie Poggio Cazzo Ti ha sparato da quale casa Da quella dove sei tu No l'ho sparato io Da quella dove sono io Sì Cazzo È il cazzo Dal secondo piano Della tua Merda Eh infatti Stavo salendo adesso Sai Da Che cacchio Ok Bravo Io sono andato Ah merda no Eh sì È uscito quello là No Era ancora dentro in casa Quando sono morto Per quello che stavo entrando io Se iniziassero a bestemmiare Uscirei Eh ma infatti È proprio per quello E ovviamente Se Eccolo Mamma mia La grata Merda la grata Microphone muted L'ho visto saltare L'ho mancato Maledetto Microphone activated Il rumirino È arrivato È arrivato È il lead glitch L'hai visto Si vedeva solo nel metto Si vedeva solo nel metto E mi ha ammazzato Che pale lead glitch di code Vaffanculo È lo streamer diversamente giovane Di ieri che è arrivato Ma non serviva Che venissi fin qui Per ringraziarmi È venuto il chat Sì 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 Ciao Wake up Mi aspettavo nulla del genere No ma infatti Stavo dicendo che è stata colpa mia Mandare una frase un po' ambigua E lui dice che non si aspettava nulla del genere Per cui ad un certo punto pensava Un tilt di twitch O comunque dei bot Ed è giusto Infatti è quello di cui stavamo parlando Do ragione al signore infatti Giocava ad Oro C'è che comunque richiede tanta comunicazione E infatti è vero È vero Mi sono mutato Per non far sentire la tromba a Karima Mentre si doveva concentrare 45 anni Ci arriverete Speriamo Guarda con la vita che stiamo facendo È difficile È probabile che verso la trentina Inizi il tracollo Cioè io sembro senza baffi Perché Sembra che li ho tagliati troppo In realtà sono diventati bianchi Per dire Che sono un po' stressato Tra lo stress E il cibo di merda E just eat Mi sa che non ci arriviamo Guarda io just eat Me lo sono precluso A una volta a settimana Quindi È in realtà anch'io È vero Quindi non Sono abbastanza tranquillo Da quel punto di vista Tutte le mattine Mi faccio 4 chilometri Con Sif 3 Alcune mattine Alcune 4 E poi lo porto anche il pomeriggio Non credo basti Fidati Tira come la merda Quindi sì No non c'entra Non credo basti Per la vita sedentaria 4 chilometri Mi sa che sono un po' pochi Ecco Va bene Per non farti venire l'infarto Va bene Forse Eh ma l'infarto Mi viene per altri motivi Proprio perché Purtroppo Noi dovremmo fare il mestiere Più scemo del mondo E divertirci Ma in realtà Porca troia Perché appena Appena sbagli una virgola Ai livelli Li chiamo i livelli In cui sono arrivato io Figurati Karim La gente impazzisce Tu sbagli una cosa Non ho capito Ai nostri livelli Cioè parlo per me Ma tu sei molto più in alto Quindi Tu in un video Dici una cosa Un po' ambigua Neanche sbagliata Un po' ambigua E la fine Eh vabbè Quello è È la norma ormai Eh lo so È per quello che Questa cosa ti fa invecchiare Eh sì no E lo stress costante 24 ore su 24 Ecco Quello Quello dà un po' fastidio E io il video di ieri Avevo paura a pubblicarlo Ancora prima Perché già non mi convinceva Poi alcune parti Sono andate completamente perdute A Karim Ho fatto fare un vocale Da aggiungere in post Come mai non c'era Ah giusto Perché l'avevamo messo Perché avevamo Sì Avevamo registrato Alcuni clip Con la sua telecamera Che sono state cancellate Purtroppo Eh In un momento di defiance E non le ho salvate Il momento in cui Simone si lamenta Di Nintendo L'avevo pensato con Il dezoom Dalla mia telecamera E il puntamento Si può dire Si passava Da una visuale Che Dal video Alla mia telecamera A guardare Simone che apriva La porta Incazzato Era Era una bella situazione Però è andata persa Quella cosa lì E non abbiamo più Potuta rifarla Perché Simone Non c'era Eh sì Quindi quel video lì Ha avuto un po' di problemi Poi vai a vedere Che mi sono Completamente dimenticato Delle esclusive Che poi Ne ho parlato anche ieri Con Moro Ma tu ti ricordavi Che quei giochi lì Fossero il 2017 Perché Non ci ho pensato Perché tu Ci hai lavorato il video Io non è che ci penso No chiaramente Ma se io ti dico Quando è uscito L'ultimo Doom Di che anno mi dici Doom Eh Non mi ricordo Non mi ricordo È del 2016 Di maggio 2016 Madò Cos'è Eh Per dire Non lo so Non mi ricordo E non avendo una vera e propria lista Adesso è uscita Tre giorni fa è uscita E non avendo una vera e propria lista Di giochi Ma quella di Wikipedia Che è una merda È difficile Ti devi segnare Gioco per gioco Come fa Firenze Con il file Excel Eh sì Ma bastava andare a controllare E dove? Ma nella lista Sony Non c'è Microsoft non c'era Allora Nella lista Poi purtroppo Si deve essere incasinata Con i formati Perché Non la potevi neanche scaricare Quella lista lì È stato tutto un lavoro Di Excel Non Excel Casini Non casini Però A meno che non ti venga il dubbio Ma questo gioco è uscito quest'anno E a me non è venuto Perché non so proprio Pensato E non Non l'avrei mai Saputo Perché appunto Non mi ricordavo Non ho giocato Persona 5 Mi ricordavo che ne avevamo parlato Tu lo volevi comprare Eh sono ancora lì Eh però Non mi ricordo io Quando cazzo era uscito Horizon L'ho giocato il mese scorso io Hai visto il tipo per caso? Eh sono entrato nella casa Perché ho trovato un fucile a pompa Ma lui non è nella casa Quindi Credo sia andato via Semplicemente Ok Grazie a Ruka Quindi mi dispiace È stato proprio un errore Un errore Grossolano Perché Non ricordarsi certi Sembrava appunto fatto apposta Perché ho tolto proprio i titoli Il moto Sta passando Si Si ferma Non lo vedo No 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 Andata via Andata via Quindi ho fatto il video per Scusarmi dell'errore grossolano Però Figa Sta girando in tondo Sì 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 No mi sa che se n'è andato Sai? Adesso è andato via Sì Lì ci sono già stato io Però da lì a prendersela Proprio a male Cazzo Secondo me C'è stato un po' di esagerazione Ieri nei commenti Ma tanto Bravi Errore grosso l'anno I due insieme Hai visto? Che bravi Tutti bravissimi sempre Dai Anche perché ripeto Che lo scopo del video era Far Far sfigurare le altre console A favore di Switch Sarebbe stata la stessa cosa Anche con gli altri titoli Li avrei Affossati Cioè uno si è lamentato Perché ho detto È gioco di macchinette Di Di coso Come si chiama Il gioco di macchine Di Della Play Gran Turismo Gran Turismo Ho detto Gran Turismo Un gioco di macchinette Ma chiaro era ovvio Che lo volevo prendere per il culo Dai neanche avessi parlato bene di Microsoft Santo Dio Grazie Gera Arrivo subito Perché secondo la gente Perché secondo la gente quello lì Era un marchettore pagato Per avere i soldi da Nintendo Ma la gente non sa come funzionano i placement Soprattutto quelli Nintendo Tu devi fare quello che vogliono loro Il cazzo di Il cazzo di lì addirittura C'è la mamma puttana Ma ti pare che in un placement Grazie Vesper Forse nei free to play puoi fare quella roba lì Forse E infatti ho preso merda perché Merrino ha fatto il placement di Valner Rock Sì No non è Valner Rock Scusami Kings of Avalor Non mi ricordo Ah sì Act of War Act of Valor Quello che c'era tra l'altro il TwitchCon Sì E lui ha detto il cazzo che gli pareva Eh ma lì c'è un accordo C'è un accordo Arena of Valor Abbiamo sbagliato tutto Lì c'è un accordo comunque Esatto Lì ti accordi per dire Come con i free to play Quando quei pochi free to play che faccio nel canale Eh lì gli dico Però posso dire quello che voglio Esatto Eh mi dicono sì Eh allora lo dico Con Nintendo io non ci potrò mai collaborare Ma anche solamente per Il video che ho fatto di unboxing di Switch Figa e lì ne dico Peste e corn Fate conto E il placement di Morrowind Che abbiamo fatto l'anno scorso L'anno scorso Non mi ricordo Ah no No è quest'anno Inizio di quest'anno È un problema Il placement di Morrowind Online Sì Di Elder Scrolls Online Ce l'hanno fatto rifare E lì c'è A me l'hanno fatto rifare Perché ho fatto vedere un giocatore Che laggava sulla scala Quindi stava Facendo tapirulan sulla scala Eh un inseguimento qui Eh vabbè sono andati via tutti e due Guarda che spavento E E mi hanno detto No lo devi togliere Perché si vedeva un glitch Sì sì ma infatti Ma guardate che per i placement Di un certo livello Tu non puoi dire niente Eh ma la gente La gente non lo sai Ma soprattutto ti controllano Anche prima A me ancora dicono Che io ho fatto il placement All'HTC Vive Perché ne ho parlato bene È veramente È per quello che diciamo che Cioè è per quello che Gatto c'è i baffi bianchi È per quello Perché non È veramente una questione Che la gente È talmente stupida Che purtroppo Ti deve esplodere il cervello Per riuscire a Ieri la goccia Che ha fatto traboccare il vaso È stato il commento Che poi ho detto anche a te Quello vabbè L'embarazzante Nel video di scuse Uno mi ha detto Vabbè gatto Devi solo migliorare I Il montaggio E i tempi comici Alla Karim Nel video di scuse Nel Che fai tagli più Tagli Però Minchia E quello io ho detto No Non è possibile Mi voglio uccidere Quello è stato il primo pensiero Mi ammazzo Perché Tanto non serve più Non ho voglia Non credo che Riuscirò a trovare un lavoro Dopo YouTube Quindi mi ammazzo prima Perché Così almeno Io l'ho riletto due volte E ho detto Magari ho capito male Non era Ma magari parlava In modo generico Cioè non parlava Che comunque Anche parlando in modo generico Non mi pare Poi per carità Lo sai Come al solito Sei bravissimo Karim Lo sai Ti ammiro Mi piacciono i tuoi video Però figa Da lì a dire che Hai i tempi comici Cioè così tanto alti Che io devo migliorare i miei A parte il fatto che Io ti ricordo che Nel video Di Luis Dove ho Fatto i complimenti a Luis Ma la gente non l'ha capito Perché Sono tutti scemi C'è uno che Ha detto Karim dice così Perché i video di Luis Sono migliori Che ci sta Non Non Ci sta Ci sta alla grande Perché io ho già dato su youtube Tutto quello che potevo dare L'ho già dato E E uno ovviamente Gli ha risposto Ha detto Non è vero Sono video diversi Che è giusto È una risposta giusta E l'altro gli ha detto No no Perché Karim Non ha i tempi comici buoni Perché Hai presente la frase Questo è quello che ha scritto Hai presente la frase Ciao Sono Luis Di inizio video Se la dicesse Karim Sarebbe una merda Questa è stata la sua Io Cioè io Io ho Io Quando la gente dice Tu metti un video in pasto ai leoni Questi sono i leoni Sono quelli che dicono Se Karim dicesse Ciao sono Luis Lo direbbe di merda Questo È quello che ha detto Nel commento Io voglio Io mi ammazzo Io mi ammazzo Perché se quello E sono Se quello è quello Che giudicano i video Mi ammazzo Perché non voglio Non voglio leggerli Non voglio leggere Mi ammazzo È quello il problema A parte del fatto che Sono tutti diventati Oh Il Kar Sono diventati tutti Dei massimi esperti E professori di video Cazzo E come ho detto ieri Ma se siete tutti bravissimi Come vai su youtube Non c'è un cazzo di bello C'è un motivo Se L'umino delle tendenze Sta mettendo Le canzoni In tendenze E non video Perché se veramente Siete tutti così critici E bravi E fateli i video Io li voglio vedere Non vi sto dicendo Vabbè Fai di meglio Non ti sto sfidando A fare di meglio Ti sto dicendo Fallo Perché c'è bisogno Di fare video migliori No ma No ma comunque Io le accetto L'accetto il confronto Perché un sacco di critiche Mi hanno Fatto giustare il tiro di video No ma chiaramente Ma dire Cioè dire quelle cose lì Tipo Che io non direi mai bene Ciao sono Luis E mi ammazzo Vuoi l'SKS Sennò prendi colpi E No no Sì lo prendo Ok Te li rilascio E butto via tutto Vuoi torciare lì sotto Ah ok E quello lì ti fa pensare Perché cazzo Poi Lì per lì Ci rimani male Perché Vedi un sacco di critiche Da persone Però Nessuno di loro fa video E quindi sono persone Che ti criticano Sulla base di Quale criterio Ma quello No aspetta però Su quel discorso No Chiaramente No è vero Se no non potremmo Parlare di film Hai ragione Hai ragione Hai ragione Però Se sono tutti così critici Che Cosa guardano Cosa c'è di così bello Infatti Sai cosa faccio La prima cosa Che vado a vedere Le iscrizioni Le iscrizioni E dico Ah già Appena vedo L'iscrizione a Mettebise Assolutamente si Resetta il mio pensiero Dico A posto Non esiste questa persona qua Perché non puoi guardare I miei e i loro Ma c'è gente che segue entrambi E quindi No non puoi No quello non lo accetto Grazie caffa Accetto tutte le critiche del mondo Ma non quello E quindi no No è vero Macchina Sento Ma sei pazzo Sei crazy Bisogna fare così Ma non c'ho il mirini Non c'ho niente Che faccio Non importa Non importa Sia aggressivo E che con l'Uzi C'hai l'Uzi tu Ma come SKS scusami Te l'ho lasciato C'ho il car Ah c'è il car E andare in giro con car E SKS Mi sembra un po' eccessivo A Kimbo Uno in una mano L'altro in là Adesso è tutto aperto lì Tutto aperto E che famo Prendiamo la macchina E andiamo da un'altra parte Dove vai È tutto aperto lì Dove sta andando eh E da dove siamo arrivati Ah merda Eh sì Ah giusto Eh ma allora dobbiamo andare un po' lontano Perché quella macchina Eh prendiamo la macchina Stiamo anche sul bordo noi eh Sì Quindi boh eh A me va bene che siate critici Perché Ho da migliorare tanto Sempre In ogni caso Infatti ogni volta che devo pubblicare un video Io mi faccio problemi Perché ho paura che ci sia questo A meno di sminchia Io ho sempre paura che Eh C'ho l'ansia Grazie Fener Ho sempre paura E da Anni che ogni volta che devo mettere il video Mi si spappola il cervello Ma infatti Chissà se piacerà Ma infatti di solito Lo mando a te Lo mando ai sub Mi faccio un'idea Ma i sub non contano I sub Fanno sempre i complimenti Siete bravi e buoni Ma voi non contate Perché fate troppi complimenti Amici No è vero Però Avendolo mandato magari qualche giorno prima Ai sub E che l'ho mandato veramente La sera prima Magari quella cosa lì sarebbe saltata fuori eh E avrei potuto aggiustare il tiro in corso d'opera Magari il video non usciva ieri Usciva oggi Dove vado qui Sperando di Eh lo so Fa un culo carino Però è vero amici belli Come? È vero Eh no perché diciamo Scusate Che dopo non vi insultate amici Semplicemente Siete troppo buoni Boh Qua sembra chiuso Ok Eh se è bello è bello Eh perché poi appunto Appunto diventa difficile capire Se un video è effettivamente bello o no Sei tu? No non sono io Abbiamo un problema? Eh sì c'è uno che ha sfondato una finestra con qualcosa Allora intanto aspetta E c'è una macchina che sta per arrivare Troppi problemi carino Uno per volta Allora Io mi ammazzo e poi ti ammazzi tu Va bene Hai una granata? No Ho sparato io Ah Aia che male Eh vabbè ma che palle Ma dove era? Era nella casa tua? Nella casa di fronte Io sono in uno sgabuzzo al secondo piano Merda Eh Con un colpo di M4 mi ha ucciso Ah ho ucciso te ok Ma un colpo di M4 avevo il metto Vabbè dai A posto no? Bella Bella Dai Quanta gente c'è? 800 Dite che c'è abbastanza gente per giocare assieme? Non credo Non ho capito scusami Eh proviamo a giocare con la gente? Sì sì se vuoi Dai proviamoci Come? Ah aspetta aspetta che faccio così Facciamo libera ovviamente Facciamo con gli zombie? Vuoi? L'hai mai fatto? Sì sì no Non l'ho mai fatta Zombie gatto Ok si chiama zombie gatto La password è Culo Ok? Entrate tutti dai Aspettiamo due minuti Entrate tutti Dove come? Allora devi andare in custom match Cercare zombie gatto Ah aspetta che devo mettere il team da due Zombie ok Prima persona ok Ci sei? Non lo trovo Aspetta Refrescia Ah eccolo qua Ok Il password è culo Sì vai Andiamo a settimere subito da me Ah a posto Siamo in squadra assieme Ok Sì sì Metto il gas a uno e mezzo Chiaramente Perché non abbiamo tanto tempo E che lui non l'ha mai provato E adesso siamo abbastanza Per poterlo fare Come se Lavoro Rian Esci C'era un computer a lavoro Usalo per Chiedi Chiedi una pausa Di un quarto d'ora Venti minuti Ok E metto ovviamente Foggi Il lavoro è lavoro Grazie per la bollita Un milione è un milione Allora Arrivo subito Dai dai La password è culo Ma a me A me non segna Che siamo in squadra Come Sì 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 Come no Ah ecco C'è scritto human Ah ecco sì sì Devo metterci il mouse però Ah Non lo so 800 persone Che a me la metà Sul lavoro A scuola Ma sì Ma lo facciamo Beh ne servono 100 Non credo Girerebbe pub Che sul portatile Da lavoro E beh Dipende da che lavoro fai Se fai il Videomakers Mi sta costringendo Ad accendere il pc Con l'air x580 Che è un'esposizione Lo deve togliere Gira il cartello Da aperto Chiuso Prende il portatile Con il cielo fan Però io Sai cosa Maxetto Ci giocherei Nella vetrina Beh beh Ti siedi In una sedia Ti siedi In vetrina È pubblicità È pubblicità E fai vedere Esatto Fai vedere Che parte pubblico Parte pubblico Tutto ad alto Il lavoro è lavoro Grazie Che sono rosso Un milione È un milione Allora Arriva Giusto 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 E niente Stiamo facendo Un bel Sparco Esatto Grazie Strabo E non fate video Su youtube Ragazzi Mai Oh Porca vacca E non morire Grazie Grazie del consiglio Gabriel Number one C'è un po' Che si chiama Cioè che dovrebbe essere Il cavaliere oscuro No Però ho modificato il nome Il cavigliere O scusa Bene Vedi che non ci arriva Neanche a 30 A 30 Cosa 30 anni Ah io no Non arrivo ai 26 Molto probabilmente Gatto si è salvato Grazie al consiglio Di Gabriel Vabbè Dai partiamo Tanto giusto Per la gogliardia Io altrissime nuove Avevo creato una pagina Facebook Per Twitch Italia In modo da far Crescere la community Visto che in Italia Twitch non è ampio No Non farlo No Quelle sono Purtroppo Buone idee Ma non da fare Sai perché? Perché poi si crea Una setta Si Non va affatto Le pagine Facebook O comunque Creare un luogo Dove c'è gente Crea Crea gruppo E non va bene Grazie indugiatore Purtroppo Tutte le pagine Facebook Di roba Sono tutte un po' feccia Purtroppo Tutte Allora siamo in pochini Ma almeno Karim Vede Com'è I mutande I zombie Dai Poi avremo occasione Di rifare Hai visto Garovir Sei contento? A stasera Laurus E mi hanno rinviato Pure il DLC Di Eurotrack Bastardi Doveva esserci L'Italia oggi E l'hanno rinviato Al 5 Che non ci sono Va bene Ma al 5 Ci vediamo In Viale Pasubio 20 Da Microsoft House 20 Si vede C'è scritto Microsoft Grande così Dai non mi ricordo Il numero Dalle 18 Alle 22 Se non ci danno Da mangiare È la volta Che vi do fuoco Prendo un cerino E mi do fuoco Perché così mangiare Che vestiti c'hai? È tutto sintetico Di carta? Ho la felpa Ho il maglione Quello di Skyrim Natalizio Che è 100% Brucia subito Mamma Ci saranno altre occasioni 100% Gasolico Non do Zaf Abbiamo creato Il gruppo degli affiliati Sulla Twitch app Unisciti a quello Unisciti a quello Piuttosto Zaf Sai cosa? Perché purtroppo Le pagine Facebook La gente Non riesce a gestire Gruppi E lo sto vedendo Col 100% Di roba Che faccio Nei server Roleplay di GTA Nelle pagine Facebook Nei gruppi di Telegram La gente Crea Una marmaglia Di casino Che non serve a niente Quindi piuttosto Cerca un modo Per direzionare A ogni singola persona Un invito su Twitch Dove Dove dici Spieghi le cose Che ne so Dimi quando scende È molto meglio 3 2 1 Ok No Xenoblade Non mi ficca Ne parliamo da me di Xenoblade Va là Così vi dovete convincere Perché Volevo prendere persona Perché Adesso che ho un po' più di tempo A parte gli spettacoli Voglio dedicarmi Ad un gioco solo Ad un gioco No no Ad un gioco Quindi volevo I spettacoli switch È ottimo Perché te ne vai in giro Vai switch Gioca da Isaac Ok Gioca da Isaac Che è meglio Però siccome c'era Xenoblade Ho detto Vabbè così sfrutto Anche un po' la switch Solo che ho visto I combattimenti E Niente Mi tocca comprarlo Per spezzarlo A metà col ginocchio Parlando Ma ne parlate poi Le due Perché se Se te lo bruci adesso È la fine Però ti voglio fare Una domanda Quando è uscito il primo E con la Wii U Quindi Tre anni fa Al day one C'è uno zombie Karimbo C'è uno zombie Dov'è Mi corre dietro Mi serve un'arma Aspetta Ma che cazzo Va subito così Dove vai Dove vai Cos'è sto dribbling E mi serve Almeno una pistol Ma ce n'è un altro E niente Salta dentro Con la nebbia Bellissima Eh te l'ho detto Che è bellissimo Bellissimo Chiudi la porta Chiudi la porta No è entrato Karimbo Aiuta Ho tirato una granata Aiuta Ho tirato E niente Mi ha buttato giù Tu mi hai E niente È durata anche troppo Venite stronzi Dov'è che sei Non so Non ti vedo qua Ecco ti Gira al tavolo Gira al tavolo Che male Bene Cazzo Che difficile Proviamo a fargli Un'altra Al vulissimo Dai Meno da Tirare fuori Un'arma Sempre culo La password Sempre culo E io che pensavo Che durasse Troppo Porca vacca Custom match Tiro giù Aspetta Ok Ok Mettiamo sempre zombie gatto Creata Un attimo Che scrivo Culo Metto EU Metto due giocatori Zombie Ok Vai Entra Al vulissimo Al vulissimo E non lo Non Rifreschia Non riesco Eccolo qua Ci sono Aspetta Si è messo Manu Come Ma levati Manu Che coglione Manu Baldur Vai via tutti Come si fa Come mi metto Aspetta che devo spostare Ma che palle Che entrano tutti I sbagliati Entra Allora io te lo sposto Allora Clicca sotto di me In 3 2 1 A posto Yeah Non volevo vedere Questa cosa Così fatto Così fatto Ho aperto le informazioni Le statistiche di 1 Si E non so come si chiudono Quindi non tocco Inc.995 Ha giocato 0 round Tempo giocato 0 E cosa si potrebbe fare Per fare delle cose fighe E far scendere Tutti subito E noi dopo un po' Così arriva l'orda Almeno noi siamo Un po' preparati E come faccio a dirglielo Di scendere tutti Di scendere live Adesso Ho capito ma c'è un ritardo No no scendete Adesso Quando Adesso che iniziamo la partita Appena potete premere F Premete F Ah ok Noi scendiamo un attimo Noi dopo un po' Dopo No no Ovviamente non dall'altra parte Della mappa No va bene va bene Facciamo così allora Scendete subito Così creato Un'orda gigante E corrette tutti insieme Partiamo subitissimo Perché non c'è tempo Neanche per pregare Quanti ce ne sono? Di più di prima tra l'altro 32 Va bene Partisse Partisse E' quello che ha detto Dead Bravo Dead Joke Bravo Dead Joke Ok partito Alex Torino E' Londra In questi giorni Bello Veramente Londra Tra l'altro ieri Ero fuori di casa Alle 4 e 25 A comprare vinili Ma ne parliamo oggi C'è stato un colpo di scena Incredibile Ed era Era buio Era buio Alle 4 e 25 Che è una roba incredibile Avete capito? Ma i ghost non servono Perché qua sanno dove siamo Cioè Il segnalino c'è no? Era passo Guardatelo Guardatelo Per stavolta Ghostateci No ma anche perché Se no senza Se gli zombie non sanno dove siamo Come cazzo farlo? E le partite sono un po' più lunghe Sentono sparare E ti corrono Perché sentono gli spari Ah come gli zombie Come gli zombie E beh certo Allora Appena potete premere F O E Scendete subito tutti E noi scendiamo poco dopo Alle case un po' più avanti Così almeno ci organizziamo L'ho pagato 50 euro Ho preso un pezzo di plastica Con una puntina Praticamente Eh ma che lo dispiace Che non si può richiudere col vinile Però va bene Parliamo da te Cazzo E ho preso una merda Però funziona bene Si sente decentemente Voglio dire Non posso prendermi una roba professional Che ho appena iniziato dai Al massimo lo comprerò Ho appena iniziato Ma no Ho appena iniziato Cioè A parte che è fighissimo È una roba fighissima Ovviamente ho comprato roba Che vada bene con i vinili E non solo Ho preso Una cosa Ho preso quello della natura Che è incredibile E quello era figo eh A me è piaciuto Ha il braccio troppo pesante Sei sicuro? Perché è veramente leggerito È vuoto È vuoto il braccio A malapena tocca Dovevi comprarti un grammofono Sarebbe fighissimo Ci sta perfettamente col salotto Sono stato in Finlandia Per Capodanno Qualche anno fa Ed era un periodo Dove era sempre solo buio E non c'era mai luce Motivo di depressione La maggior parte delle persone Eh Saranno tutti youtuber Scendete Sono scesi tutti E scendiamo Tutti non lo so Sono sceso eh Ah vai Crazy Eh ma dacci tempo Di prendere le armi Però così È un casino Eh ma scendiamo alle case Vabbè Eh per forza Lì ce n'è Dove stai andando? Segui me Oh scusami Ma no ma vieni un po' più in qua Eh ma qui ci sono le case Mi piace che gli zombie cadano Ah ovviamente alcuni ci hanno seguito Eh vabbè Eh vabbè Gli stronzi Ovviamente Al nord fa più buio Alle 14 in inverno No alle Al nord A capo nord Perché A Torino Eh guarda che c'è uno zombie dietro di me Ma che palle Tra me e te c'è quasi un'ora di differenza Infatti mi ricordavo Quando ancora avevi la casa vecchia Che vi è la finestrona E quindi Si capiva bene E diventava buio No da te era luce E da me era buio Ah si È vero si Sai quanti in chat me lo scrivevano Diceva come è possibile Che da te la sera Perché sei a Torino E niente c'è già lo zombie qui È ucciso Lo sei armato? No Ti salvo io Ti salvo Eh cazzo sono morto Come? Eh si Scappa verso di me Scappa verso di me che arrivo Vaffanculo Night 92 di sto cazzo L'hai ucciso Eh si Bravo Curati adesso Che palle Eh non ho negato Sono appena acceso Non ho nulla Mi curo cocotto No vabbè Curati nell'immediato futuro Quando trovi ti curi Perché metti che trovi qualcosa E non ti curi Guardalo qua Nacro? Eh c'è un altro C'è un altro nascosto Arrivo 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 Guarda quanti Basta È nel cespuglio lì Mi sa È nel cespuglio qua Ma tu cerca L'annacura Avevi ragione L'hai preso Dai Che ansia Che bello con la nevia Però eh Dovevo anche correre Perché Vabbè non tanto Vabbè corriamo Io c'ho Credo uno Credo proprio sia uno Di vita Guarda È letteralmente Un pixel Potrei buttarti giù E ressarti Eh sì Vai O muori Ok Ok Vai Come Allora Ok La Tommy Gana hai trovata Bastardo Sì Non ho così tanti Corvi Eh Knight Mi avevi quasi buttato giù Peccato che avevamo detto Un'altra roba Però va bene Dai Sono contento di averti Massacrato Madonna Ti ha lasciato Con uno di vita Ambientato Rovigo Che bello Però mi piace tantissimo A me questa modalità So che per i zombie Magari è un po' palloso Perché dovete correre Basta verso i suoni E dare pugni Però a me piace tanto A me piace veramente tanto Sono sceso subito E ho inseguito L'unico vestito No ho capito Ma scendere subito Non voleva di scendere E poi volare Verso l'altro Ovviamente Ovviamente Ma dio mio Perché tu Dovevi scendere Scendere giù Ovviamente Ma vabbè Dai 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 Ah è morto Quello che vi Sì l'ho accoppato Ah pensavo Gli avessi sparato Non me ne sono accorto No sono a coppie E questa è un po' Una stronzata Perché noi Come a coppie Eh sono a squadra Gli zombie Ma potevano essere Una squadra unica Eh appunto Però a coppie Si possono ressare Eh che figo Sì ma che cazzo Vuol dire che Ci sono gli zombie Che girano a coppie In questa maniera Puoi trovare altri giocatori No Altri giocatori umani No No non è E ti scesi troppo presto Anche voi Eh ma Eh vabbè ma Perché dobbiamo comunque fare Ragazzi Mancano dieci minuti Dobbiamo lasciare la linea Ai termos L'abbiamo fatto giusto C6 ce lo giochiamo Proprio per bene Perché questa modalità Con il server pieno È bello Knight io ho capito Cioè chi se ne frega Perché tanto stiamo facendo cazzate Però stai giustificando Una roba che solo tu E un'altra persona Avete fatto Tutti gli altri Hanno fatto giusto Quindi qualcosa Avete sbagliato Però chi se ne frega Una partita di stile Mad Max è bella Solo che volevamo provare l'orda E se tu mi ammazzavi subito Diventava inutile Cioè E morivo subito E l'abbiamo fatta apposta Per non morire subito Mio dio Che lag Karim Sì? Eh T'ho visto correre sul muretto E teletrasportarti molto avanti Arriba l'aereo Ma non andare verso L'afforio del gas Eh ho sbagliato Pensavo fossero casi Invece sono Pali del telegrafo Del telegrafo La grande depressione Va bene non importa Chi se frega Menomai che non sono morto Perché no Era tutto inutile Dove ci incontriamo? Dai andiamo verso qualche cosa Andiamo verso Razok Ro 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 In città Minchia Eh se no non li troveremo mai È fighissimo così Metto il punto Andiamo lì Tutti a Ro Ro Eh però hai sbagliato qualcosa comunque Night Perché tutti gli altri sono scesi giù cattivi E solo tu mi hai trovato Tutti gli altri non ci sono Tu e un'altra persona Ma sì Ma chi se l'inchiule Eh stavo spiegando No no Ho capito però Stai tranquillo anche tu Night Chi se ne frega Fortuna che non l'hai ucciso Tanto ti ho curato Ma di un cazzo Ti ho lasciato con sei di vita Lo stesso Beh meglio che uno Capito Tutti qui Tutti a Ro Ho zoc Non siamo scesi in città Perché siamo scesi subito Dopo che è scesa l'orda Per essere tutti assieme Per quello Ho capito ma anche qua Fare i puntigliosi E dai Ma sì Tranquillo Perché non c'è tempo Eh sì Per quello Ma avremo altre occasioni Era giusto per provarla assieme Eh Giabanino Ci sarà un motivo Chiedi a Gabriel Perché sei stato bannato Hai bestemmiato Madonna Eh non lo so Io non lo so Ah niente Mi sono fermato Io aspetta arrivo Questo qui è scevo Prendo la barca Per attraversare Che due palle prof Ora oltre i tempi comici Sbagliati Anche i tempi di apperraggio Troppi errori Troppi errori Sì no Più che altro Devi chiedere a Gabriel Il motivo Giabanino Di solito se uno viene bannato Non è di certo per caso Magari Gabriel ogni tanto C'ha i coglioni girati Però non so Per quello dici Ogni tanto capita Magari l'ha bannato Oppure o sbaglio Ma il permaban La vedo dura Eh infatti La vedo veramente dura Eh c'è una zombie C'è una zombie Eh finché uno Eh ma io devo attraversare l'acqua Come? Eh sì Arrivo Dov'è questo zombie? Dove ti ha toccato? Eccoli ce ne sono due Vieni Finché sono due Arrivo Arrivo Eccomi qua Dove sono? Era Manu Eh li ammazzò Occio Occio Vabbè A posto Che spavento Eh il tappolone Che paura Dietro Dietro Mamma mia Devo correre dentro Karim Ho un colpo Hai sparato a me gatto? Hai sparato a me? Per errore Sì è scapitato La troia Chiudi sempre le porte Che loro non le possono aprire Le dovrò prenderle a pugni Eh l'altra volta L'hanno sfondate malissimo Però mi son cagato Prima Sei una sega Manu Sei una sega È per tutto Ma è Karim Che è successo? Ma mio dio La porta La porta Non c'è la porta È per dire Gatto io non so dove andare Ah Karim Karim l'ho preso Karim Salvami E niente E niente Dai Karim Uccidili Aiuto Aiuto Levatevi che non passo Che dio mio Quanti sono Che troia Si possono restare Ti ricordo Tra di loro Ti sento ovunque Ti sento ovunque Guarda il 36 È bello perché Io ti sto aspettando In quarta persona È bellissimo Li vedo tutti Quelli che ti arrivano Togli l'arma Ti raggiungono Li sento Li sento Mamma mia Che rischio Porca troia Ma stardi che non fanno versi È terribile Perché si stendono i piedi E vai inquietantissimo Salto Che culo Eh c'è Mike Marmot Che sta prendendo terreno Mi preparo Il raid Intanto Oddio che male Che male Che male Cazzo Karim Non ti Non ti fermare Aia Aia Mi ricordo Quella vecchissima Lai di H1Z1 Con i termos Così Bravissimo Occhio Non lo puoi saltare Quello Eh vedo che ti sta andando bene Insomma Arca miseria Guarda che c'è trinciapolli Che sta guadagnando terreno Lì Uh Bello E adesso ti devi Assolutamente armare E vincere Non sono tanti E sono 14 Ehi Occhio Bravo Bravo Continua Ho finito le munizioni Merda Cambia arma Cambia arma Come 14 Ah giusto Perché si può sorressare Cacchio Alcardiopalma Proprio Non male Bravo Merda E' proprio Da finale Di films Dell'horrors E allora Vaffanculo Bastardi Sono vivo Pensavo di morire Pensavo di morire Non mi avrete mai Abbiamo un minuto Devi ucciderli Torni dietro E li uccidi adesso Porca troia Ah così funziona L'aspectate Va bene Bravo Devi tornare indietro Che arriva muso duro No Perché sta arrivando il gas Eh lo so Per l'ora di riuccidere Non abbiamo tempo Sono le 11 No no muoiono Muoiono Non è vero Non sono coglioni Guarda che arrivano Eh allora gli sparo Non arrivano Intanto faccio partire Il Rive Gioinate tutti Che tra poco parte E scrivete tutti ai termos Cream survivalista Oh 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 però Se fai un colpo a testa Ce la fai La faccio a fare un colpo a testa E nella testa Bravo Ho sbagliato Eh allora Eh su me ne vado Bravo Non sanno fare niente Questi qui E siamo in stanza 2 Tra l'altro Neanche in streaming Eh Ne è ancora Bene Pochissimi Ma guarda che Lì ci è passato Di fiacco Karim Dov'è? È lì nel suo spuglio Davanti a te Bastardo Roman Reigns È uno Ho tre colpi da una parte Uno dall'altra Ce la fai Ce la fai Loro sono in 6 Eh no Eh ce la fai C'è la padella Lo sento Lo sento In 5 Stanno moreni Ah si giusto Uno sono io C'è se No Che è successo? No no Se seguito da Jolly Blue E vedete c'è Jolly Bumble Eh Jolly Blue C'è una casa qui eh Eh non posso fare niente Però gatto Eh magari dentro C'hai dei colpi Non così Non così E niente Finita Finita Entra Entra e chiudi Entra e chiudi subito Chiudi Non hai chiuso Eh ho provato Sai come Moriamo entrambi Stronzo Duello madre Bravo E niente Siamo morti così Bravo 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 Eh vabbè Bello E niente 20 kill E io ne ho fatte 4 Va bene Buoni termos A tutti Tanto li abbiamo già Raidati e tutto Quindi non so cosa Non so come funziona Perché in realtà Loro stanno guardando L'hosting Va bene A stasera ragazzi Perché sono rimasti Grazie a Karim E a tutti In generale Tutti Ciao Ciao